E' stato fermato nelle scorse ore un soggetto marocchino 49enne ritenuto responsabile dell'omicidio del suo connazionale Said El Bavi, bracciante di 44 anni e ritrovato nella mattina del 19 febbraio dai carabinieri in località Borgo Tressanti, alla periferia di Cerignola nel Foggiano. Il provvedimento restrittivo è scaturito in particolare da una serrata attività investigativa durata ininterrottamente per più di 24 ore, consistite in interrogatori testimoniali e sopralluoghi di polizia giudiziaria, oltre che mirate attività tecniche che hanno consentito così di individuare il presunto responsabile del delitto. Oggetto di ricerca da parte dei militari resta invece l'arma impiegata per compiere l'omicidio. Il 49enne si trova attualmente presso il carcere di Foggia dove rimane in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo a fare il macabro ritrovamento nella tarda mattinata del 19 febbraio nei pressi del casolare abbandonato dove viveva insieme alla vittima e ad altri migranti un connazionale 26enne che ha subito allertato i carabinieri. Le indagini sono state avviate dai militari della compagnia di Cerignola. Sul luogo di ritrovamento sono giunti anche i militari del nucleo investigativo sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Foggia che hanno provveduto a effettuare i primi rilievi. Tanto importante risultato investigativo è stato ottenuto grazie ad una costante sinergia tra carabinieri e la locale procura della Repubblica.